con il tecnico del Zambelli Orvieto Matteo Solforati commentiamo questa sconfitta qui a Soverato 3 a 1 una buona partita comunque disputata dalla sua squadra che ha tenuto testa ad un volle soverato comunque coriaceo sappiamo la forza di questa squadra in un campo ostico però la sua squadra probabilmente si è persa solo nella finale di quarto sette sì direi una partita giocata bene penso di poter dire anche alla pari contro quella che in questo momento è la capolista del campionato nel campo diciamo più influente del campionato nel senso che un tifo molto caloroso molto corretto però sicuramente è il campo in cui il fattore campo ha un peso maggiore sono contento della prestazione della squadra penso anche sinceramente che potevamo meritarci il tie break non avremmo rubato niente se fossimo arrivati al tie break visto che comunque due set li abbiamo persi a 23 uno l'abbiamo vinto bene l'ultimo eravamo punto a punto fino diciamo al 20 e poi abbiamo commesso qualche errore di troppo però diciamo che è una squadra che sta iniziando a ingranare sotto tanti punti di vista sotto i punti di vista del gioco sotto il punto di vista dell'atteggiamento abbiamo visto comunque una squadra che non ha mai mollato fino alla fine e che se la giocata ripeto secondo me alla pari in certi frangenti abbiamo anche dimostrato di essere superiori a livello di gioco poi abbiamo sempre commesso qualche errore di troppo che ci ha penalizzato ovviamente non possiamo essere soddisfatti del risultato perché vista la prestazione tornarcene a casa anche magari solo con un punto poteva essere importante sia per muovere comunque la classifica in un campo difficile sia per il morale siamo praticamente quasi ad un terzo di campionato oggi era la decima giornata un giudizio sul cammino della sua squadra sappiamo che anche voi come il soverato avete osservato il proprio turno di riposo avete conquistato dieci punti tra l'altro diversi punti li avete conquistati proprio in trasferta essendo una matricola di questo campionato diciamo che sin qui il cammino è soddisfacente per la sua squadra soddisfacente ma non troppo nel senso che comunque da allenatore ovviamente si pretende si pretende sempre il massimo io penso che questa squadra abbia degli ottimi valori e che finora non sono stati sempre espressi credo anche che abbiamo meno punti di quelli che che dovevamo avere ma non meno punti di quelli che ci siamo meritati a parte a parte oggi le altre sconfitte sono sempre state sconfitte diciamo da quel punto di vista lì meritate oggi forse meritavamo qualcosa in più però mi auguro che diciamo che da oggi insomma si prenda consapevolezza che ce la si possa giocare con tutti che abbiamo il livello di gioco per giocarcela con tutti visto che abbiamo affrontato ripeto la capolista fuori casa e abbiamo fatto bella figura quindi spero che da oggi riparta un cammino un cammino diverso rispetto a queste prime dieci giornate coach Leonardo Barbieri 3 a 1 all'orvieto arriva il primato in classifica alla decima giornata una vittoria importante sofferta ma importante e questa squadra sta acquisendo quelle caratteristiche che sono delle grandi squadre vincere anche soffrendo e saper soffrire beh noi c'è da dire che soffriamo sempre perciò questo no dobbiamo dire che loro hanno lavorato a mio avviso molto molto bene a muro e ci hanno messo veramente in difficoltà hanno fatto sette muri perciò quello hanno fatto veramente bene e soprattutto poi hanno battuto bene perciò hanno fatto bene la battuta bene a muro noi abbiamo sofferto però abbiamo visto come nei momenti che contano abbiamo dei giocatori di grande talento che riescono a anche a sistemare a sistemare il match non solo in attacco ma anche battuta come ha fatto oggi melissa che ha messo un segnale decisivo in un momento fondamentale del match perciò questo è un aspetto molto importante nelle partite casalinghe sta diventando quasi una costante questa qui soverato che nei momenti in difficoltà si 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 aggrappa anche all'esperienza la qualità delle sue giocatrici e riesce a venirne fuori il pubblico sicuramente fa sempre il suo dovere perché ha incitato anche stasera c'è stato un grande pubblico lo sottolineava in precedenza anche l'allenatore ospite quindi sicuramente una marcia in più all'inizio di un tour de force perché sappiamo che adesso c'è il turno in fra settimanale mercoledì ad olbi e poi si torna in casa con ravenna quindi c'è bisogno veramente di tutte le ragazze di tutto il pubblico sì quello che hai detto è giusto tornando un attimino discorso di prima sicuramente noi qualcosa abbiamo peccato soprattutto nel secondo set in battuta abbiamo fatto qualche errore di troppo e qualche palla un po un po semplice ecco dobbiamo crescere qualcosina ancora non su sulla tecnica della battuta sull'efficacia ma nella gestione durante durante il set questo è quello che dobbiamo fare adesso lo sappiamo che un campionato così un campionato veramente intenso noi ci sobbarchiamo anche tanti viaggi adesso andiamo al via mercoledì poi torneremo in casa lo si sapeva perciò abbiamo posto una panchina e oggi si è visto ancora disponibile perciò aspettiamo la partita di mercoledì grazie a tutti grazie a tutti